Adoro quello dove Lois Lane cade dall'elicottero e Superman scende impicchiata e la recupera. Qual era? L'uno. L'uno. Ti rendi conto che quella scena traboccava di imprecisioni scientifiche? Che la gente non vola non è un mistero. No, mettiamo che possa volare. Lois Lane cade con un'accelerazione iniziale di 10 metri al secondo, Superman si tuffa per salvarla e protende due braccia d'acciaio, Miss Lane, che ora viaggia alla velocità di circa 200 km all'ora, ci sbatte contro e resta istantaneamente affettata in tre pezzi. Ma c'è il caso che Superman uguagli la sua velocità decelerando? In quale spazio, signore? In quale spazio lei mezzo metro si schianterà a terra? Seguiamo i dati forniti da Sheldon e prendiamo come altezza per il palazzo il Daily News Building a New York. Ci ritroviamo Lois Lane che cade da 150 metri con un'accelerazione iniziale di 10 metri al secondo. Considerata la velocità finale fornita da Sheldon, Lois si schianterebbe a terra dopo soltanto 5,5 secondi di volo. E se lui la massi le avrebbe dato una morte più misericordiosa facendole raggiungere il marciapiede? Questo, scusa, tutta la tua argomentazione sembrerebbe poggiare sull'assunto che il volo di Superman sia una mera questione di forza. Ma lo senti quello che dici? È acclarato che il volo di Superman sia una questione di forza. È un'estensione della sua capacità di saltare in alto in virtù dell'esposizione al giallo sole del... Dobbiamo dare ragione a Sheldon considerando il volo di Superman come una mera questione di forze, ma dobbiamo dissentire sul fatto delle origini di questo potere. Infatti non derivano da uno spostamento nella lunghezza d'onda primaria della luce del sole, giallo sulla Terra e rosso su Krypton, come affermato poi ritrattato su Action numero 1 del 1938, ma dal DNA kryptoniano calibrato sulla base del pianeta alieno che gli consente di aggirare le leggi della fisica della Terra. Grazie a tutti.